Quando affrontiamo progetti di innovazione anche in ambito industria e anche sui temi dell'industria 4.0 noi lavoriamo sempre su tre assi principali che sono la tecnologia, i processi e le persone. In particolare noi, con Winnext, vediamo la tecnologia come un fattore finalmente abilitante per generare e affrontare un nuovo modello di cambiamento. Uno dei tre pillar è la tecnologia, la tecnologia che deve essere semplice, deve essere scalabile, deve essere accessibile sia da un punto di vista, diciamo, di complessità che di costo ed è in quest'ottica che si inserisce alla nostra parte Cipcom, in particolare con Google Cloud. Google Cloud è una suite di servizi e di soluzioni appunto basati sul cloud, sull'infrastruttura di Google che consente alle aziende di tutte, veramente di tutte le dimensioni e di tutti i segmenti archeologici noi in particolare lavoriamo spessissimo con le aziende manufatturiere di sfruttare appieno le tecnologie migliori che ci sono in questo momento sul mercato per rispondere alle esigenze di business. Quindi si può andare da una soluzione che aiuta e che facilita la collaborazione in azienda quindi la condivisione delle informazioni, il collegamento con le serie periferiche un utilizzo molto più efficace, molto più voluto della mail, fino a soluzioni di cloud pubblico delle proprie che consentono di utilizzare la tecnologia che ha reso ricca e famosa Google e che Google utilizza quotidianamente nei servizi che noi utilizziamo come persone, diciamo, fisiche, sulla Gmail, le motori di ricerca, ecco, tutte queste tecnologie pensate che possono essere messe a disposizione dei processi aziendali. Grazie.